Come prima cosa ringrazio tutti i partecipanti a questa iniziativa di presentazione di questa cooperativa spin-off universitario WellBeLab che è sorta ed ha una sede legale in questo edificio, in questa facoltà, esattamente nel corridoio che vedete poi dietro di voi e avremo anche il piacere di inaugurare insieme questa sede in un ufficio di soppalco che solo perché è un soppalco un po' bohemian e per il resto qual è l'oggetto di questa cooperativa? Dirò molto brevemente che al centro di questo laboratorio benessere c'è evidentemente l'obiettivo di definire, misurare, valutare il benessere. Non soltanto all'interno degli enti pubblici quindi con una valutazione dei bilanci di genere e delle politiche pubbliche dentro gli enti pubblici cosa che peraltro ha caratterizzato per anni l'attività e tuttora caratterizza dell'unità di ricerca gender cap presso il centro analisi delle politiche pubbliche cercando di coniugare insieme sia questo approccio sviluppo umano che è legato per noi ad Amartya Sen con un approccio sviluppo umano e prospettiva di benessere ed è qualcosa appunto che ha caratterizzato questa unità di ricerca sorta all'interno del Dipartimento di Economia Politica dentro il centro analisi delle politiche pubbliche ma anche presso il privato, presso le imprese con quindi una serie di tecniche sia di carattere econometrico che statistico che matematico di logica fazzi e tecniche di valutazione prettamente economiche per potere poi non solo valutare la situazione, monitorare questi enti dal punto di vista del raggiungimento di obiettivi di benessere e di equità di genere ma anche al fine poi di poter sviluppare quelle politiche, quegli assetti organizzativi, quelle pratiche volte realmente a conseguire questo obiettivo. Dunque un obiettivo di benessere è un laboratorio che si è sviluppato grazie anche ad esperienze pilota e sperimentali che poi come singoli docenti all'interno dell'università abbiamo avuto la possibilità di scambiare come pratiche anche non solo in convegni nazionali, in convegni internazionali è a suscitare la curiosità anche di altri paesi verso la realtà che si viveva in questa città e proprio ricordo come esperienza di genderoditing l'esperienza pilota che abbiamo svolto all'interno della regione Emilia Romagna nel 2001 che ha voluto vedere come poi sperimentazioni sul campo la provincia di Modena e il comune di Modena. Grazie quindi alle competenze tecniche presenti all'interno del comune e la sensibilità dell'amministrazione abbiamo potuto porre in pratica delle conoscenze teoriche, delle idee, delle suggestioni che poi sono a loro volta diventate metodologie e approcci teorici che hanno riscosso l'interesse anche dal punto di vista accademico ma anche di reti internazionali come l'European Gender Budgeting e quindi non è un caso a mio avviso che proprio quest'idea laboratoriale sia nata in una città come Modena. Cedo quindi la parola al sindaco di Modena ringraziandolo per la sua presenza per un intervento. Grazie. Ringrazio la collega professoressa Addabbo, ringrazio tutti voi e voglio sottolineare anch'io l'importanza che ha la particolare sottolineatura che questo convegno oggi vuole dare al tema del benessere. Ovviamente l'apprezzamento deve partire dal progetto, un progetto di particolare qualità e dal profilo molto innovativo che ha portato l'università a dare vita ad uno spin-off che ispirandosi al pensiero economico e sociale di un grande della nostra epoca come il Nobel Amartya Sen pone al centro della propria mission promuovere il maggiore benessere possibile nel rapporto tra le persone e il lavoro, offrendo ad enti pubblici ed imprese strumenti innovativi di innovazione del benessere. Ovviamente davanti a un tema di questo genere non posso prescindere dalla mia formazione di uomo di legge. e bisogna dire che la tensione che oggi c'è nel pensiero europeo a parlare del benessere è un elemento particolarmente innovativo, cioè la nostra cultura, in particolare quella giuridica, ha sempre fatto molto fatica a coniugare con la disciplina del sistema una idea di fondo che desse un giudizio positivo del rapporto fra la persona e l'ambiente e circostanze in senso proprio di gratificazione, di piacevolezza, di gradimento diversamente, come sapete, dalla Costituzione americana che fin dal Settecento inserì la parola felicità avendo ben chiara un'idea di questo genere. Noi abbiamo sempre e soprattutto lavorato sulla piena realizzazione della persona umana in cui ci sta dentro anche questo, ma la piena realizzazione della persona umana noi tendiamo soprattutto a costruirla in una dialettica interpersonale, cioè in una dinamica sociale in cui si realizza assieme a un contesto complessivo. Certamente affrontare questo tema oggi è assolutamente imprescindibile perché oggi le caratteristiche particolarmente spersonalizzanti delle dinamiche del lavoro introducono questo tema come elemento di priorità. Non è un caso che proprio anche l'ordinamento giuridico in questo periodo se ne sia occupato, non è che il mobbing e lo stalking entrano nelle nostre leggi proprio in questo periodo. È evidente che c'è una fase di trasformazione in cui tutto questo viene ad avere bisogno di una riflessione, di una regolamentazione. Vedete, è un compito difficile e complesso, non sotto il profilo tecnico-scientifico, ma anche sotto quello umano ed etico-sociale, perché mette in campo alcuni elementi che pure da noi sono stati fortemente dibattuti. Mi riferisco prima di tutto al tema delle differenze di genere, alla capacità di riconoscerle nelle loro diverse declinazioni professionali, sapendo tenere conto delle individualità, cioè che ogni persona è diversa, e dei bisogni, del saper fare e delle sensibilità, dell'adeguatezza dei compiti affidati e del migliore utilizzo delle risorse personali e professionali. La valutazione degli obiettivi, delle performance e conseguentemente dello stress, oppure, dall'altra parte, dei risultati conseguiti da lavoratori e lavoratrici, secondo una logica di equità di genere e di clima organizzativo positivo, impone un salto culturale e un salto tecnologico per avvalersi di strumenti idonei. È evidente che se ci poniamo sotto un profilo della validazione scientifica, noi dobbiamo trovare il percorso per trasformare queste idee in numeri. un complito veramente arduo e veramente complesso, anche dal punto di vista, diciamo, dei procedimenti che richiede per essere realizzato. La sfida è ovviamente avvincente e impegnativa, perché si prefigge di coniugare efficienza e efficacia dell'impresa con trasparenza ed equità, partendo sempre, non solo dalla persona, questo è un concetto che avremmo sempre utilizzato, ma dal giudizio che la persona dà rispetto a come vive in un certo contesto. Quindi parlare di benessere organizzativo negli ambienti di lavoro, di progetti di benessere capaci di coinvolgere tutti i collaboratori, fa parte di uno scenario e, potremmo dire, di una impostazione di fondo che ci deve coinvolgere a partire dal sistema pubblico. Il nostro Comune ha iniziato ad adottare con grande convinzione una lettura del rapporto con il mondo del lavoro, inteso come dipendenti del Comune, ma anche come mondo del lavoro nel contesto sociale, cercando di muoversi in questa direzione, cioè investendo nelle risorse umane, qualità delle relazioni, formazione, flessibilità organizzative in grado di rispondere alle molteplici esigenze di lavoro e di vita e di tutti i collaboratori. La capacità di ascolto delle esigenze di benessere sul lavoro, avvertite dai dipendenti, e poi le esigenze di modulazione di proposte articolate e flessibili per dare risposta laddove è possibile fornirla e farlo in termini gestionali e organizzativi e non in termini di adattamento concreto alle singole difficoltà, è certamente uno dei terreni di lavoro più importanti e delicati nell'ambito dei progetti benessere, che hanno l'obiettivo generale di coniugare le risposte alle esigenze dei collaboratori con l'efficienza e la qualificazione professionale che sono necessarie per assicurare elevato standard qualitativo quello che da sempre qualifica i servizi delle amministrazioni comunali che sono attente a questi problemi, fra cui mi sento di collocare la nostra. Dunque è qualificante e innovativa la progettualità dello spin-off che viene attivato dall'Università di Modena, testimoniando tra l'altro l'alto profilo etico e scientifico dell'Ateneo, che diviene protagonista dell'innovazione applicata alla tutela dei diritti e alla lotta alla discriminazione nei rapporti e nei luoghi di lavoro, riconoscendo come fondamentale la centralità di ogni persona, uomini e donne, che debbono legittimamente aspirare a lavorare in un ambiente e in un clima relazionale che faccia del benessere un cardine della vita aziendale. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie per questi buoni auspici e la nostra cooperativa è uno spin-off universitario. L'Università di Modena e Reggio Emilia infatti è socio-sovventore dentro questa cooperativa e la nostra esperienza è ben incardinata dentro questo Ateneo, con docenti e ricercatori provenienti prevalentemente dalla Facoltà di Economia, ma anche con una docente, Stefania Saltini, che è docente a contratto presso la Facoltà di Lettere. Cedo quindi la parola al magnifico Rettore per un intervento su questo spin-off cooperativa. Grazie, Tindara. In primis mi occorre non solo l'obbligo, ma anche il piacere appunto di ringraziarti per aver messo insieme e fatto partire uno spin-off universitario, cose che l'Università di Modena e Reggio Emilia sta cercando appunto di spingere e di far sì che più e più di nostri docenti entrino appunto direttamente nel mondo, se volete, appunto del lavoro. Finora gli spin-off nostri universitari erano essenzialmente applicativi nel campo tecnico-ingegneristico, dove ne contiamo ormai ben oltre 10 e ci avviamo appunto a superare presto i 20. Dunque una situazione dove appunto creare lavoro come appunto parte della capacità dell'Università di entrare nel mondo del lavoro è un fatto che direi dovrebbe veramente avere il plauso di tutti, soprattutto in questi periodi così difficili, dove si parla tanto ma si fa magari meno innovazione e ricerca. Detto questo, non voglio prendervi molto tempo se non fare alcune considerazioni. Penso che sia sempre difficile in un paese come il nostro, se volete, che usa nella sua lingua la parola lavoro per dire appunto quello che uno fa tutti i giorni. Non la parola fa, work, come si usa appunto nella lingua anglosassima, ma la parola lavoro, labor, che indica chiaramente fatica e pianto per non passare appunto addirittura al dolore, alle doglie del parto, come sapete. Ma è un atteggiamento che penso si evidenzi molto chiaramente come pensa il popolo latino nei confronti del lavoro quotidiano. E dunque di qui si parte sempre con difficoltà. Dunque che sia più necessario avere un well-being, usiamo la parola inglese, in questo ambiente di sofferenza. Penso che possa essere un'ottima idea, Tindara, e possa avere effettivamente quest'altro aspetto che è stato illustrato anche dal sindaco. Questa cosa non mi sembra vada verso appunto il dire stiamo bene e così lavoriamo meglio, meno, scusate, ma stiamo bene e lavoriamo meglio, cioè produciamo di più. Penso che sia una delle cose che in Italia più stiamo soffrendo, cioè il fatto che la nostra produttività ora, lavoro, eccetera. Infine, ultima parola di plauso, ma forse dopo ne dico anche troppi di plauso oggi, ma il fatto che su nove componenti fondatori siano otto appunto di sesso femminile, otto donne, è quasi uno spin-off di genere, quasi mancava per avere la totalità. Ma questo indica tanto più anche la serietà dell'approccio, cioè lo spin-off inter, appunto disciplinare ed è corretto andare a utilizzare tutte le capacità e le possibilità che sono disponibili. Dunque io vi auguro buon lavoro, non entro nella tipologia di questo spin-off che è particolare, ma abbiamo qui appunto il dottor Canullo che ci illustrerà meglio la novità per la nostra università e penso anche non solo per la nostra università. Grazie grazie per la vostra attenzione. Effettivamente questo è il primo spin-off universitario che è stato generato dalla Facoltà di Economia Marco Biaggi in cui ci troviamo e quindi chiedo al nostro Preside Eugenio Caperchione di dire qualcosa su questa novità. Ti ringrazio Tindara ringrazio anche ovviamente colgo l'occasione essendo un po' il padrone di casa per ringraziare tutte le persone che stanno partecipando e ovviamente anche il Rettore e il Signor Sindaco allora sì è il primo spin-off generato dalla Facoltà di Economia o nella Facoltà anche perché per essere proprio precisi diciamo le sue origini sono nel Dipartimento di Economia Politica che insomma ha fatto lungamente da incubatore di questo ma ne approfitto appunto non solo per rispondere alla tua sollecitazione ma anche così per dare una piccola comunicazione prima di appunto anche di dare poi un un piccolo contributo spero al dibattito allora la comunicazione è che tu mi inviti a parlare come Preside visto che questo sarà questa è una fase di transizione e dobbiamo comunicare ai nostri interlocutori lo facciamo in questo periodo stiamo andando a fondere la Facoltà e i Dipartimenti ci sarà una nuova governance dell'Ateneo quindi non solo è una delle mie ultime occasioni di saluto ma è sicuramente una delle ultime occasioni nelle quali chi non è in Università arriva qua e sente questa cosa strana per cui c'è la Facoltà con il Preside il Dipartimento con i Direttori insomma fra qualche mese sappiatelo cominciamo a prepararci ci sarà in questo edificio un unico Dipartimento questa è una cosa di cui in realtà sono anche abbastanza orgoglioso insomma siamo riusciti a trovare un modo per rimanere tutti insieme a lavorare quindi per fare delle sinergie tra di noi ci sarà un gruppo di un'ottantina di persone che quindi continueranno in realtà parlo per le persone che vengono da fuori continueranno a essere disponibili queste 80 più quelle dello spin-off a fare tutto quello che sarà richiesto che sarà utile che sono dei servizi alla collettività ecco in effetti noi quello che facciamo qua perché arrivo anche allo spin-off è quello che sapete benissimo non sto a ripetere facciamo della formazione facciamo della ricerca facciamo dei servizi al territorio quindi studiamo delle cose così le possiamo insegnare possiamo scrivere libri articoli e possiamo renderci utili al territorio gli interlocutori sociali questo territorio poi fatto dalle persone qua oggi appunto più donne che uomini per la tematica trattata però insomma delle persone che hanno dei problemi da risolvere o la voglia magari non sono problemi ma comunque vogliono migliorare la situazione della loro impresa della loro amministrazione pubblica eccetera e dicono in università e nella facoltà di economia domani nel dipartimento di economia Marco Biagi unificato ci sarà delle persone che ci possano dare una mano bene noi questo lo facciamo normalmente in questi anni per quello che ci avete in questi 43 anni della facoltà di economia per quello che ci avete conosciuto in realtà era all'ilà dei molti cappelli era comunque solo l'università la novità da da oggi insomma da quando si inizia a lavorare concretamente che c'è anche questa occasione dello spin off di qualche cosa che è partito che è una devo dire che è una scommessa perché è una scommessa di dare i servizi fare dei prodotti se uno guarda il volantino capisce che queste nove persone hanno in mente di potersi occupare di tantissime cose di poter dare contributi su tanti temi e hanno in mente di poterlo fare in maniera professionale così professionale che dopo un periodo iniziale questa società una società cooperativa però è una società è un'impresa deve essere in grado di poter procedere con le sue proprie gambe deve essere in grado di essere autosufficiente deve essere in grado di creare valore creare valore valore per il territorio ma creare valore evidentemente anche per i soci per le persone che ci lavorano che oggi sono nove domani potranno diventare di più insomma lo vedremo quindi una modalità diversa con la quale si interviene e chiaramente nasce qua perché c'è stato un lavoro scientifico di alcune persone insomma la Tindala è a questo tavolo l'Antonella Picchio è seduta lì la Gisella è seduta lì poi insomma ce ne sono anche altri che hanno collaborato che si sono avventurati su dei temi sicuramente di frontiera perché il gender auditing gender budgeting la scuola di Sen è molto conosciuta però non è che poi in tutte le università neanche in tutte le facoltà di economia ci si occupa di questi temi l'hanno fatto hanno prodotto delle cose qualcuno gli è andato dietro e ora nasce una scommessa di rendere questo lavoro produttivo io credo che questo potrà sicuramente essere fatto e il ruolo che abbiamo giocato noi appunto la facoltà il dipartimento ma anche il dipartimento di economia aziendale che sicuramente ha guardato con favore a questa possibilità è stato di lasciare uno spazio lasciare un'opportunità allora l'ultimo pensiero che vorrei fare è questo io credo che in fondo diciamo riflettendo su questa situazione io credo che chi ha una responsabilità e nel nostro piccolo tutti quanti qua l'abbiamo avuta l'abbiamo ha la responsabilità di riconoscere dove c'è qualche cosa che si muove che si agita dove ci sono delle idee non qualunque idea ma delle idee che hanno una razionalità che hanno una possibilità di concretizzarsi e lasciare spazio dare sostegno perché la facoltà in questo momento dà sostegno dà una sede dà anche un sostegno come quello che stiamo facendo oggi insomma e magari ne darà anche ancora se serve io credo che questa sia una cosa importante da fare credo che peraltro sia una cosa che non sempre nella società accade e non accade neanche in tutte le istituzioni l'università è molto particolare non è un luogo dove ci si arricchisce dal punto di vista economico ma un luogo dove ci si arricchisce intellettualmente dove si hanno possibilità in effetti anche di seguire un'idea un progetto e tirarci fuori qualche cosa di importante per la società io credo che questo sia una cosa molto molto bella d'altra parte se lavorare in università sia come professori come ricercatori ma anche come persone che stanno dentro questo spin off è un po' un privilegio perché è un mondo che credo nessuno di noi vorrebbe abbandonare io credo che ci siano anche delle responsabilità allora io non solo auguro sono anche sicuro che le persone che hanno fondato questo spin off sapranno cogliere e capire qual è la loro responsabilità che è una responsabilità certamente verso loro stessi e le loro famiglie perché in questo momento stanno rischiando stanno decidendo che questo è il loro lavoro però c'è anche una piccola responsabilità verso questa facoltà verso questo teneo che gli ha dato degli spazi verso gli interlocutori che guardano con attenzione quindi insomma non c'è nessun pasto gratis ogni piccolo privilegio si paga sono sicuro che voi sarete in grado di fare questa cosa quindi in bocca al lupo da parte mia e credo sicuramente dei due direttori di dipartimento di tutta la facoltà chiederei a questo punto al direttore del dipartimento di economia politica che è stato da poco eletto nella fase di transizione verso questo nuovo dipartimento che ci vedrà tutti insieme se vuole dire solo appunto qualcosa rispetto alla memoria di quello che è stato la storia di questo grazie soltanto due parole di saluto e di augurio nei confronti di un'iniziativa che il dipartimento di economia politica ritiene molto importante dipartimento di economia politica che sta per fondersi all'interno dell'unico dell'unico dipartimento di economia Marco Biagi riteniamo che l'essere riusciti prima diciamo dell'esaurimento del dipartimento diciamo così nella nuova struttura l'essere riusciti anche all'interno della facoltà di economia dar luogo ad uno spin off su un tema così innovativo ed importante quale quello che viene presentato oggi sia un atto come potremmo dire che conclude la storia del dipartimento che la riprende la ribalta nella nuova struttura ridando diciamo importanza a quella che è stata la storia di questo dipartimento un dipartimento che è stato da sempre molto attento alle problematiche sociali alle problematiche anche di genere che non hanno fatto diciamo non si sono affermate con semplicità all'interno di questo contesto della nostra struttura ma dove si è riuscita diciamo a portare avanti una riflessione importante anche per i nostri studenti anche per i nostri studenti dove le tematiche dell'equità sono importanti e vengono portate avanti con forza all'interno del dipartimento dove c'è un'attenzione nei confronti di questi temi proposta anche da una società che sta rapidamente e profondamente cambiando non soltanto per gli effetti di una crisi che si presenta dura pesante importante ma anche per effetto dei cambiamenti in corso dovuti per esempio ai processi migratori dove le tematiche del benessere le tematiche di genere le tematiche dell'equità si presentano in modo nuovo e assolutamente dirompente per un contesto sociale quale quello modenese che si era assestato diciamo intorno ad un sistema di relativo benessere quindi io credo che questo spin off riprende tutte queste tematiche che sono tematiche che hanno fatto parte proprio della storia del dipartimento così come riprende anche gli aspetti dell'interdisciplinarietà che da sempre sono state una tematica importante per la storia del dipartimento di economia politica ricordo un ultimo aspetto che io ritengo sia importante ancora che confluisce dentro lo spin off e che fa parte di nuovo della storia del dipartimento è che l'aspetto che riguarda le forti relazioni che il dipartimento di economia politica e non solo tutta la facoltà ha avuto con il territorio le relazioni tra l'università e il proprio territorio di riferimento sono sempre stato un aspetto molto importante per la storia del dipartimento e di questa facoltà all'interno di questa matrice culturale le persone che fanno parte dello spin off si sono mosse con grande impegno hanno costruito una capacità di movimento una capacità professionale che sono state in grado di proporre non soltanto questo territorio ma anche al di fuori e che io mi auguro che siano in grado di portare avanti anche in prospettiva pur in un momento così complesso quale quello posto dalla crisi io spero che tutti questi aspetti positivi vengano colti sono sicura che le persone che partecipano allo spin off hanno tutta la capacità professionale e l'impegno sanno approfondire l'impegno per poter veicolare questa iniziativa speriamo che l'esterno sia in grado di capirla grazie e buon lavoro ecco ci tengo a precisare che questa iniziativa questa forma particolare questo essere spin off è stato qualcosa che è stato possibile anche grazie ai consigli preziosissimi che ci sono pervenuti dall'ufficio ILO dell'Ateneo e in particolare dalla direzione legale dell'Ateneo e quindi chiedo all'avvocato Lorenzo Canullo intanto colgo l'occasione appunto per ringraziare chi ci ha aiutato in questo percorso forse di spiegare ancora più possibilmente nel dettaglio perché magari per qualcuno la parola spin off nonostante ne abbiamo fatto riferimento più volte in più interventi può ancora risultare qualcosa di nuovo di strano e comunque qual è la peculiarità di questa nostra esperienza dentro il panorama degli spin off che ci sono dentro il nostro Ateneo grazie grazie beh io credo che che bisogna un attimino soffermarsi anche sul sul nostro diciamo piano regolamentare interno per capire come come nascono gli spin off universitari e come si collocano poi sia all'interno dell'Ateneo e nei rapporti con il territorio allo stato attuale ripeto noi abbiamo un regolamento che disciplina la costituzione l'attività degli spin off e consente la creazione di questi spin off che altro non sono delle società nel caso di specie società SRL ma anche società mutualistiche l'iniziativa ecco questo proprio per agevolare la creazione di queste strutture in seno all'Ateneo l'iniziativa può essere come dire avanzata sì da docenti ricercatori universitari titolari di assegni di ricerca di borse di studio post laurea post dottorato di borse universitarie studenti in corsi di studio laureandi allievi di corsi di specializzazione e di dottorato dipendenti delle università appartenenti al personale tecnico tecnico amministrativo quindi come potete vedere l'iniziativa per la creazione di questi di questi soggetti all'interno del nostro Ateneo che poi hanno la possibilità anche sulla base di strumenti convenzionali di poter operare per un periodo che va dai 3 a 6 anni all'interno dell'Ateneo stesso dicevo l'iniziativa è consentita a un'ampia platea di persone che in qualche modo ruotano intorno al mondo universitario dal punto di vista organizzativo come diceva la professoressa Dabo diciamo che l'istruttoria poggia essenzialmente su una prima attività diciamo di natura sostanziale quindi di valutazione del progetto da parte dell'ufficio dell'ufficio ILO una volta definito il progetto e quindi l'idea una volta che si è concretizzato si passa alla formalizzazione alla costituzione di questo spin off e quindi attraverso l'attività della direzione che rappresento si fanno come dire tutta una serie di attività volte alla formalizzazione dello statuto dei patti parasociali insomma di tutti quei documenti contrattuali che serviranno allo spin off per poter operare operare sul mercato ecco io credo che sia anche molto importante capire un po' il sistema attuale degli spin off che abbiamo diciamo che l'università incentiva la partecipazione di realtà del mondo produttivo nella creazione di spin off quindi c'è proprio una forte interazione tant'è vero che su dieci spin off partecipati dall'ateneo e ad oggi costituiti ben cinque sono partecipati anche da società private tra l'altro tre spin off sono partecipate da persone fisiche appartenenti al mondo industriale anche straniero ed uno spin off vede la partecipazione di due università la nostra e l'università di Trento gli spin off coprono molti ambiti ambiti scientifici e tecnologici si spazia dal settore della dermatologia abbiamo lo screen squared a Modena a quello dei dispositivi elettronici con R-Sense che vede sia la partecipazione di docenti dell'università di Modena che di docenti dell'ateneo di Trento dal settore dell'aceto balsamico con Crachev che è partecipata da società modenesi di produzione dell'aceto balsamico a quello della medicina rigenerativa con Olostem che vede la partecipazione della società farmaceutica chiesi di Parma ecco questo sicuramente è lo spin off più grande è uno spin off che attualmente è una vera e propria officina farmaceutica l'unica officina farmaceutica universitaria che in grado che è dotato di un riconoscimento tecnico si chiama GMP e che consente appunto di produrre cellule staminali all'interno di questa nostra struttura poi abbiamo anche spin off che hanno risvolti di applicazioni industriali in campo farmaceutico Terabor che vede la presenza di investitori anche stranieri alla ricerca di prodotti ecocompatibili ed ecologici con Ecotecnomat che coinvolge docenti del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali dell'Ambiente dal settore dell'elettronica di potenza lo spin off Runpower ubicato a Reggio Emilia a quello dell'integrazione di strumenti informatici e lo spin off Data River ubicato invece presso i Dipartimenti di Ingegneria di Modena e al settore biomedicale con lo spin off Regenerand oltre a questi soggetti partecipati poi non dobbiamo dimenticare la presenza di spin off puramente accademici cioè spin off che sono stati generati all'interno del mondo universitario e non vedono appunto la partecipazione di soggetti esteni cioè sono stati generati all'interno della nostra organizzazione semplicemente dalla presenza di docenti ecco qual è la peculiarità di questo nuovo spin off e questo è molto importante fino adesso lo spin off è stato visto come uno strumento un mero strumento di trasferimento tecnologico quasi una prerogativa tipica in modo particolare lo spin off nasce nel mondo delle facoltà di ingegneria in sostanza in realtà in realtà questo questo spin off è qualcosa già di diverso di diverso perché perché è uno spin off che è in grado nel suo diciamo nella sua organizzazione nelle sue finalità è in grado di erogare quindi servizi sul territorio rivolgendosi a privati e pubblici quindi in certo qual modo le competenze che vengono sviluppate all'interno del diciamo del mondo universitario attraverso questo strumento molto più flessibile partecipato partecipato dall'Ateneo bene è in grado di operare di operare diciamo sul mercato altra caratteristica caratteristica di questo di questo spin off è la sua forma è la sua forma cooperativa gli spin off che fino adesso abbiamo avuto sono spin off diciamo sotto forma di sono SRL quindi con una governance ben precisa e quindi di diversa di diversa matrice insomma mentre invece qui ci troviamo di fronte a uno spin off che è stato costituito in forma cooperativa per arrivare a questo diciamo a questo risultato è stata fatta un'attenta analisi sotto un duplice profilo il primo profilo riguarda diciamo riguardato la compatibilità di questa figura di questa struttura cooperativa rispetto rispetto e al nostro regolamento e ai documenti contrattuali adesso allegati quali gli statuti i patti parasociali e così via tant'è che questa diciamo questa struttura cooperativa diciamo è unica nel panorama universitario in secondo luogo è stato altresì verificata è stata come dire verificata anche la coerenza la coerenza della delle finalità di questo spin off rispetto a quelle proprie di un'amministrazione pubblica perché lo spin off nel caso di specie il web bilab come spin off del diciamo partecipato partecipato dall'ateneo e perché questa partecipazione sia in qualche modo legittima forse il sindaco perfettamente al corrente di questa normativa che impone insomma le amministrazioni a tutte le amministrazioni pubbliche di verificare che i propri soggetti partecipati perseguano attività coerenti con le finalità istituzionali dell'amministrazione che le partecipa nel caso di specie l'università e quali sono le finalità la didattica e la ricerca bene dicevo sulla base di queste due di queste due verifiche e tenendo conto altresì che il compito dello spin-off è anche quello di consentire un'ampia partecipazione di soggetti che in qualche modo ruotano intorno all'ateneo ecco si è arrivati appunto a definire un nuovo modello un nuovo statuto di spin-off che in qualche modo consentisse come dire l'utilizzo dello scopo dello scopo mutualistico ecco quindi se vogliamo fare una sintesi di questa di questa nuova attività possiamo dire che che l'università insomma attraverso questa questa ampia attività diciamo di indagine è particolarmente sensibile alla creazione di spin-off universitari sia per garantire da un lato come dire il trasferimento tecnologico delle proprie competenze anche attraverso ripeto l'erogazione l'erogazione di servizi sia per consentire in un contesto di profonda difficoltà dell'accesso per i giovani nel mondo del lavoro opportunità di attività imprenditoriali spesso gestite direttamente da questi grazie una cooperativa su questo punto eravamo molto convinte e convinti e quindi ci siamo costituiti in forma di cooperativa colgo questa occasione per ringraziare chi all'interno di Lega Coop all'interno della quale siamo ci ha aiutato in questo percorso in particolare Mario Tassi e Fernando Fiorillo e gli altri componenti di Lega Coop anche il direttore Verasani che non è potuto essere qui con noi ma ringrazio a questo proposito Mara Masini componente della commissione pari opportunità nazionale di Lega Coop per essere qui con noi rispetto appunto a questa scelta di essere cooperativa beh innanzitutto sono io che ringrazio voi per l'invito che ci avete rivolto e ovviamente cioè come diceva Tinder io partecipo come componente della commissione pari opportunità nazionali di Lega Coop ma anche in rappresentanza di Lega Coop Modena giustifico l'assenza del direttore Verasani che è impegnato in direzione e vi anticipo anche che la direzione di Lega Coop in questo momento sta prendendo in considerazione la domanda di ammissione della cooperativa Lega Coop quindi oltre alla presentazione insieme alla presentazione che state facendo in questo momento in un altro luogo Lega Coop sta deliberando la missione di questa cooperativa all'interno della nostra associazione io mi sento molto in sintonia con questa iniziativa innanzitutto perché interpella due caratteristiche che mi appartengono quella molto evidente di essere una donna e anche quella di essere una cooperatrice questa iniziativa imprenditoriale perché di iniziativa imprenditoriale si tratta appunto mi consta sia uno dei pochi esempi di spin off universitari se non forse l'unico costituito sotto forma di società cooperativa e la ricerca di questa modalità organizzativa ha impegnato sicuramente l'ufficio legale dell'università di Modena ma ha sicuramente impegnato anche le strutture tecniche e di servizio di Lega Coop nel cercare di affrontare questa situazione che era nuova anche per noi e penso che non sia ancora finita qua perché ci stiamo ancora lavorando e la cosa continuerà questa iniziativa dicevo ha un oggetto sociale abbastanza ampio e ricomprende nel proprio oggetto l'esercizio di attività finalizzata alla diffusione di una cultura delle pari opportunità attraverso la predisposizione appunto di piani di progetti specifici nonché l'analisi dell'impatto delle politiche pubbliche in un'ottica di genere come donne come componente della commissione pari opportunità di Lega Coop non posso che salutare favorevolmente la nascita di iniziative di questo genere la nostra commissione che ha la peculiarità di essere una commissione costituita all'interno di un'associazione di imprese ritiene necessario proprio ne abbiamo dibattuto e ci siamo trovate tutte molto d'accordo su questo su questo fatto ritiene necessario improntare la propria attività tenendo insieme la promozione e la difesa di valori alti quali la diffusione delle pari opportunità anche oltre il genere perché noi abbiamo un problema di pari opportunità che prescinde dal genere ma che che interpella anche tutto il tema dell'integrazione delle donne extracomunitari e anche degli uomini extracomunitari noi abbiamo nelle nostre imprese già anche percentuali elevate di lavoratori extracomunitari e dicevo tenere insieme la promozione e la difesa dei valori delle pari opportunità favorendo anche l'accesso a tutti i livelli della carriera lavorativa di tutti la valorizzazione del merito quale è trasparente il criterio di selezione per l'accesso alle posizioni e quale è il criterio di selezione e per l'accesso a tutte le posizioni lavorative ma abbiamo la necessità di incardinare questo ragionamento questi ragionamenti all'interno di un contesto più ampio che valorizzi però anche l'approccio economico al tema delle pari opportunità infatti la scarsa e diversa femminilizzazione da settore a settore dell'economia soprattutto nelle posizioni apicali continua a rappresentare una perdita di opportunità di crescita per l'azienda e per il paese e di questo occorre prendere coscienza anche all'interno del mondo della cooperazione quindi abbiamo l'esigenza di mantenere una duplicità di appoggio di approccio da un lato di tipo valoriale che per un'associazione come la nostra è assolutamente importante e dall'altro di tipo economico ed aziendale al tema delle pari opportunità siamo quindi interessati a promuovere e a diffondere una cultura aziendale che assuma convintamente questo approccio e lo adotti nelle proprie politiche di sviluppo delle risorse umane il terreno su cui lavorare è fertile se solo pensiamo che le imprese aderenti alle GACOP esprimono percentuali di lavoratrici e di soci entrambe superiori al 50% che sono ovviamente ripartiti in modo diverso all'interno dei vari settori perché abbiamo delle punte altissime delle percentuali altissime nei settori delle cooperative sociali e delle percentuali ovviamente bassissime nel settore dell'agricoltura ma comunque banalmente cioè queste percentuali poi precipitano se andiamo ad analizzare le donne che sono impegnate nei ruoli apicali delle aziende e anche di quelle impegnate nei ruoli alti di governance nella nostra associazione infatti da un'indagine condotta su un campione di 125 cooperative dell'Emilia-Romagna che ormai risale al 2009 ma che è ancora abbastanza indicativa di una tendenza emerge che le donne dirigenti nelle cooperative di dimensione maggiore dell'Emilia-Romagna sono appena il 9% non partiamo da zero ovviamente sono tante le aziende che a volte anche in modo inconsapevole hanno adottato azioni positive ma che magari fanno fatica a comunicare queste best practices e anche su questo aspetto come commissione pari opportunità siamo intenzionati a lavorare per mettere comunque in rete e diffondere queste best practices che le aziende fanno inoltre come cittadine non ci sfugge che un ruolo determinante lo gioca anche il pubblico e che l'impatto delle politiche pubbliche non solo non penso solo a quelle strettamente legate all'uelfare ma penso anche a quelle legate all'urbanistica piuttosto che ai trasporti piuttosto che alla sicurezza dicevo l'impatto delle politiche pubbliche sulle cittadine e sui cittadini non è neutro in particolare a me modenese non sfugge il ruolo importantissimo che il lavoro delle donne in questo territorio ha svolto in termini di maggiore ricchezza e anche maggiore equità nella distribuzione della ricchezza stessa in questo contesto quindi ritengo importante e utile l'attività di supporto e di consulenza che la vostra cooperativa può svolgere anche attraverso anche attraverso sinergie con altre strutture già presenti sul territorio e quindi sicuramente sono convinta che appunto per la qualità delle soci fondatrici peraltro qualcuna la conosco anche personalmente per il contesto nella quale la vostra iniziativa si è sviluppata che appunto la facoltà di economia credo che sarete in grado di fare ottime cose anche appunto con l'approccio che a noi interessa anche molto che è quello di un approccio economico e aziendale al tema delle pari opportunità l'altro aspetto che mi premeva sottolineare è proprio il fatto che abbiate scelto di costituirvi in società cooperativa sono convinta io personalmente ma non so io che la coesistenza di una pluralità di forme imprenditoriali costituisca sicuramente una ricchezza ma nel contempo sono anche molto soddisfatta come cooperatrice che voi abbiate scelto e deciso di adottare questa modalità organizzativa mi piace prendere a prestito il titolo di un convegno a cui ho partecipato che appunto la cooperazione non è un luogo comune per riaffermare anche in questa sede che è vero la cooperazione non è un luogo comune ma non lo è non solo in funzione del riconoscimento costituzionale che gli viene riconosciuto ma non lo è soprattutto per quel nucleo valoriale intangibile che ne fa un'esperienza imprenditoriale unica e distintiva nel panorama della nostra economia una forma imprenditoriale che potremmo definire più delle teste che delle tasche perché in effetti di fatto di fatto una delle carenze strutturali delle nostre cooperative è la scarsa sottocapitalizzazione è la elevata sottocapitalizzazione la scarsa capitalizzazione ma proprio per questo a mio parere ben si adatta a delle attività che potremmo definire professionali e intellettuali è una forma imprenditoriale che trova appunto per le cooperative di lavoro quale è la vostra nel principio del voto capitario l'espressione di un principio democratico di governance che si alimenta nella dialettica e nel confronto e che può avvalersi quindi di competenze multidisciplinari e quindi offrire servizi diversificati e che non ultimo a proposito di benessere rendendo i soci imprenditori di loro stessi consente anche un elevato grado di flessibilità nell'organizzazione del lavoro questo lo dico perché anche proprio dalle esperienze dirette di altre professioniste organizzate in cooperativa ci veniva proprio da loro la testimonianza del fatto che la forma organizzativa cooperativa ha rappresentato per loro un modello estremamente conciliante in tema di lavoro e spazi di vita privata su questo tema tra l'altro la nostra organizzazione sulle cooperative del sapere in particolare è fortemente impegnata anche a livello nazionale proprio perché riteniamo che questa sia una delle nuove frontiere con le quali ci troveremo a fare i conti nel prossimo futuro quindi di nuovo grazie per l'invito che ci avete rivolto il nostro appoggio continuerà anche nel futuro e vi auguro veramente tanto tanto successo voglio precisare che questa idea innovativa è sorta dentro il centro analisi delle politiche pubbliche e dentro le nostre attività e che però è stata portata anche diciamo anche in modo veramente ritenendo che fosse qualcosa di nuovo anche dal punto di vista delle possibili domande che pervenivano in risposta a questi bandi al bando Wittekoff e a Spinner ed effettivamente abbiamo avuto successo nel presentare questa domanda hanno avuto successo due in particolari socie giovani che vedete al termine di questo tavolo Stefania Saltini che è docente a contratto presso la facoltà di lettere del nostro teneo è stata segnista di ricerca presso sia ArtCup che GenderCup Francesca Corrado anche lei è stata segnista presso GenderCup e sia Francesca che Stefania hanno un dottorato in un'economia e l'altra in storia del pensiero economico quindi a questo punto nel nostro volere cercare anche un modo diverso di lavorare certamente in sinergia con le altre realtà che sono presenti sul territorio qui a Modena o anche per esempio abbiamo aperto da pochissimo una sede operativa a Ferrara e stiamo seriamente pensando a uno scambio con una società Equalitas di Madrid e anche con l'Università Complutense di Madrid e Hamlin University negli Stati Uniti con cui pure abbiamo potuto grazie all'esistenza di una convenzione fra il nostro Teneo e la loro Università cominciare a sviluppare idee a creare appunto delle che speriamo possano gemmare nuove realtà quindi il nostro credere sia sinergie con altre realtà in altri territori ma soprattutto crediamo fortemente che sia hanno svolto un ruolo estremamente importante fin dall'inizio di questa nostra realtà giovani ed è per questo che anche come vicepresidente della nostra società adesso chiedo appunto a Francesca Corrado di intervenire per illustrarvi per darvi alcune suggestioni su quello che concretamente facciamo intendiamo le nostre attività e in parte poi troverete anche dei materiali informativi e molto sintetici che vi abbiamo distribuito che nel nostro stesso sito del quale scorrono alcune immagini qui altre informazioni aggiuntive grazie Francesca un cordiale saluto a tutti vi ringrazio per la vostra presenza e vi ringrazio in particolare la regione Emilia Romagna per averci accompagnato in un percorso durato ben due anni dal momento che appunto io e Stefania abbiamo vinto il primo bando spinner nel 2010 e il secondo bando Witekov nel 2011 e vorrei ringraziare in particolare Michele Restuccia Federico Cannella dello spinner point di Ferrara che ci hanno sostenuto dandoci consigli e sostenendoci anche offrendoci consulenze nella concretizzazione di questa idea progettuale abbiamo parlato della peculiarità dello spin off dal punto di vista della forma giuridica ma vogliamo essere innovativi anche nella nella modalità di lavoro e nell'organizzazione interna infatti Welby Lab nasce con una forte apertura alla creazione di rapporti non competitivi ma collaborativi tra soggetti talenti e professionalità diverse e crediamo fortemente che il futuro sia delle imprese che innovano in maniera collettiva e che fanno rete insieme ma crediamo non soltanto nella condivisione delle idee e dei progetti ma anche nella condivisione dello spazio e del tempo infatti Welby Lab è il primo spin off in Italia ad aver ricevuto il bollino di certificazione co-working da parte della società di consulenza co-working di Milano cos'è il co-working una nuova modalità lavorativa che permette di offrire scambi di tipo culturale tra soggetti che hanno background professionali e culturali profondamente diversi e proprio ragioni di questa apertura non soltanto alle società locali quindi del territorio ma anche locale ma anche nazionale e l'apertura ai giovani creativi ai dottorandi ai consulenti freelance la prossima settimana avremo come ospite una dottoranda palestinese che ha scelto Modena per poter meglio studiare l'approccio del gender budgeting che è stato appunto sviluppato nel corso di questi 12 anni all'interno del gender cap ma in questo momento di crisi che colpisce soprattutto le giovani generazioni Welby Lab intende coinvolgere anche i giovani nella struttura organizzativa interna attivando forme di collaborazione e anche nella costruzione di percorsi formativi negli ambiti attinenti alla nostra attività e quali sono questi questi ambiti sui quali ci muoviamo sono diciamo prodotti e servizi innovativi ma sono innovativi perché alla base c'è un'innovazione di approccio e di metodologia adottiamo un duplice approccio che è quello appunto della prospettiva di genere quindi un'attenzione particolare quindi all'uomo e alla donna ma soprattutto una prospettiva diversa in termini di benessere benessere inteso non in senso unidimensionale quindi benessere solo economico ma benessere multidimensionale come insieme di capacità di essere e di fare degli uomini e delle donne alcuni dei nostri prodotti sono già stati sperimentati come diceva all'interno dell'unità di ricerca gender cap nel corso di questi 12 anni in particolare il bilancio di genere il bilancio di genere dell'approccio sviluppo umano il bilancio partecipato altri prodotti sono la valutazione della performance stress lavoro correlato diversity management che non sono appunto prodotti che trovate nella brochure altri invece sono in fase di sperimentazione sono strumenti a supporto diciamo delle attività che svolgiamo che intendiamo implementare nel corso appunto di questa nuova esperienza all'interno dello spin off in particolare parliamo della certificazione di genere della programmazione delle pari opportunità della formazione da offrire anche ad studenti appunto laureandi laureande e uno strumento innovativo ulteriore sarà quello dello software quindi un software particolare che utilizza tecniche statistiche e di logica fazzi con il quale intendiamo offrire un supporto agli enti pubblici e alle imprese ora l'attività di consulenza diciamo che svolgiamo ha un duplice obiettivo quello di migliorare l'efficienza l'efficacia e la trasparenza delle politiche pubbliche ma allo stesso tempo favorire la responsabilità sociale migliorare il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori e crediamo proprio che in questo momento di crisi è necessario pensare a un nuovo modello di sviluppo pensare ad un nuovo modello di benessere e diciamo che i nostri prodotti e i nostri servizi sono in linea con questa nuova idea innovativa idea di benessere alla Senn e la tavola rotonda che ci sarà tra poco sarà un'occasione per discutere di come cambia il valore del benessere proprio in questo momento di crisi che colpisce le famiglie i giovani le donne e gli uomini forse non alla stessa maniera la tavola rotonda sarà presieduta dal presidente della società Giovanna Badalassi e quindi passo a lei la parola grazie 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 Grazie.